Nelle tempeste della vita L'immagine della barca ci richiama la chiesa che è chiamata a attraversare le tempeste e a volte si dimentica di contare su Gesù Cristo Dal Vangelo secondo Marco Venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli Passiamo all'altra riva E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca C'erano anche altre barche con lui Dopo una lunga giornata, Gesù spinge i suoi ad andare altrove I discepoli seguono la sua volontà Quando tutto procede bene, non c'è nulla da temere Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena Egli se ne stava poppa sul cuscino e dormiva Allora lo svegliarono e gli dissero Maestro, non ti importa che siamo perduti? Tanto più si è colpiti dalla tempesta Tanto più Gesù ci sembra lontano La barca è qui simbolo della chiesa che sembra per affondare I discepoli si sentono abbandonati Fanno tutto il possibile, ma tutto sembra inutile Quanto tempo hanno atteso prima di chiamare Gesù? Pensavano di poter contare su loro stessi Si destò, minacciò il vento e disse al mare Taci, calmati Il vento cessò e ci fu grande bonaccia Ma disse loro Perché avete paura? Non avete ancora fede? Se noi siamo con Cristo Non abbiamo nulla da temere Tanto più ci fidiamo di noi stessi Tanto più rischiamo di perderci Quali tempeste sto oggi attraversando? E furono presi da grande timore E si dicevano l'un l'altro Chi è dunque costui Che anche il vento e il mare Gli obbediscono? Chi è Gesù? So accettare il rischio di affidarmi a Lui? Con fiducia Ritrovo la pace davanti a ciò Che oggi mi spaventa E mi hariaare il rischio di far24 Ho si fai